Ai i capelli! Fermi tutti, sto bendando Matilde perché ho preparato una sorpresa bellissima per lei per festeggiare questo San Valentino. Ho preso una stanza da Emotional Grand Hotel, ho provato ad abbellirla nel miglior modo possibile. Lei di questo ovviamente non sa assolutamente nulla, speriamo vada tutto per il meglio e che la sorpresa venga bene. Mamma ma dov'è che mi porti? Non te lo posso dire. Perché non puoi dirmelo? Dai, io vado a chi sia. È una sorpresa amore. Dai, dai, muoviti. Accendi, dobbiamo andare. Andiamo. Dai, su! Ok. Oh ca**o, qua ci sono delle belle scale da fare. Ok, dammi la mano. Veloce che fa un suono che non mi piace. Allora, sali il primo gradino. Quante sono? Tante amore. Ma cosa si prende a quel resto? No. Vai, sali le scale? No, ma no, aspetta, vorrei che sei. È finito? No, no, faccio, faccio. Oh, ma dimmi quanto devo salire? Ma vai, te sali, ok. Perché c'è la musica? Non lo so. Vieni dritta. Perché stiamo andando al buio? Non stiamo andando al buio. Dove mi stai portando? Aiuto. Sbendati. Oddio, amore, che cosa c'è la mia! No, amore, no. Qua c'è pure la jacuzzi. Non c'è niente? Oddio, che cosa c'è la mia! Amore, no! Sto pianto. Amore, ma che cosa bella! Amore, mi piace venire! Amore, stai piangendo! Amore, nessun nome è fatto per me! Che cosa bella! Ta-da! Amore, lo sentiamo! Olè! Buon San Valentino, amore! Stappa, amore! Mi impegno! Che non sparco tutto, ti immagino? No! Mi dispiace a me a rovinare questo cuore! Eh, lo so, ma è colpa tua nel caso! Tagliato! Oh! Devi inclinarlo! No, scusa, scusa! Te sei esperta, io non ve lo mai! Ma dai, non sono biaca io! Che date che sono biaca! Grazie a me! Ho la faccia e il braccio squadrato! Sembra un alieno, amore! Sei storo! Olè! Attenzione, ecco, servizio in camera! Che servizio! Scusi, cameriere! Ecco, diamo! Ma come sto in camera? Non lo so! Prego, cameriere! Scusi, su, veloce, non ho tempo da perdere! Servizio in camera, signorina! Grazie! Ci sono i dolci! Qua abbiamo il secondo! Buon appetito, amore! Grazie, grazie a te! Ma che comodità, oh, eh! Che comodità! Aspetta, anche quando tu vuoi servizio! Anzi, vuole schiavizzare, amore, ragazzi! Vuole schiavizzare! Che crocs! Eh? Com'è l'acqua? È calda! È calda? Sennò io non entro! È valente! Ok! Ciao, amore! Dai, amore, che ce la fai, eh! Eccolo! Credi in te! Eccolo! Alla bella vita! Non hai il tocco! Alla bella vita! È calda! Grazie! Ah sì, ma perché che per la prima volta sto per... Cioè sto sudando? È una sauna, non è un massaggio! Ora spiegami! Cioè, perché ti trucchi se siamo in stanza? I due si figano! Ah, le donne che le capisce! Di certo non io!